amici dell'orienteering oggi siamo nella splendida maniago un centro storico incredibile e poi poi tanto verde una bella sprint e di sprint ne hanno fatte tante anche i nostri azzurri che sono impegnati nelle selezioni stefano raus come sono andati questi test molto bene grazie anche al supporto delle società del comune di gemona che ci ha ospitati percentuali di promossi tutti i promossi aspettiamo questa gara qua e poi sceglieremo i nomi quindi tanti test effettuati dagli azzurri scopriamo i promossi brocciati di oggi quindi oggi bocciato promosso rimandato promosso sì sì promosso promosso tutto bene ma qualcuno è stato bocciato non so vedremo da buona in classifica promosso bocciato pvt oggi promossi o bocciato promossi sempre oggi grande soddisfazione ma comunque il pvt si presenta sempre per essere protagonista e anche oggi sono stati protagonisti promossa con un meno non è facile con un team manager così però le aspettative sono alte ma noi cerchiamo di soddisfarle quindi oggi promossa promossa quindi tarso promosso certo con la pioggia è una bella vittoria oggi promossi o bocciato oggi tarso promossi promossi